L'altro oggetto principale, intanto lo annunciamo, è la riforma del titolo quinto della Costituzione, cioè si interviene nuovamente a distanza di 15 anni dalla riforma che nel 2001 aveva modificato nel titolo quinto l'assetto dei rapporti tra il centro, lo Stato centrale e le periferie, quindi regioni, province, città metropolitane e comuni. Oggi si interviene nuovamente non solo con una parziale, non del tutto completa abolizione delle province, dopo magari ci torniamo, ma si interviene soprattutto modificando l'assetto dei rapporti. Se nel 2001 si era andati verso un cosiddetto regionalismo forte, oggi si va nella direzione completamente opposta e quindi si tornano ad attribuire molti più poteri, poteri significativi allo Stato centrale, diminuendo, diciamo così, i poteri delle regioni. La riforma attuale del 2016 va nella direzione esattamente opposta a quella del 2001, introducendo dei cambiamenti che sono da un lato non del tutto risolti, anche qui, che promettono molta semplificazione. Non ci saranno più le materie concorrenti, quelle cioè in cui oggi lo Stato adotta con propria legge i principi fondamentali che fanno da cornice unitaria e le regioni poi hanno invece lo spazio per ciascuna intervenire come crede. Su queste materie c'è stato molto contenzioso, si dice, cioè molti giudizi di legittimità costituzionale portati davanti alla Corte Costituzionale. È vero, in questi 15 anni c'è stato un grandissimo contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, però perché c'è stato? Solo in alcuni casi per un difetto nella formulazione delle materie. In molti casi perché in realtà non si è curata per niente, da parte dei governi che si sono succeduti dal 2001 in poi, la fase di attuazione della riforma. È chiaro che se materie che prima erano centralizzate, prima della riforma del 2001, vengono trasferite alle regioni, bisogna adeguare la legislazione, fare trasferimenti finanziari, ma anche non solo di competenze, di attribuzioni, intervenire insomma con tutta una legislazione di attuazione. Ed è chiaro che se questa legislazione di attuazione manca, le possibilità di conflitto tra Stato e Regioni, in cui ciascuna cerca di interpretare, diciamo tirando un po' la competenza dalla propria parte, il confine della competenza dalla propria parte, sono molti di più. La riforma del 2001, sull'onda di una idea iperfederalista, aveva attribuito alle regioni tutta una serie di competenze estremamente vaste, perché la Costituzione vigente prevede sostanzialmente tre grandi contenitori. Un primo contenitore con le materie sostanzialmente esclusivamente dello Stato, che sono le materie che attengono ai poteri sovrani, dalla disciplina della cittadinanza, quello dell'esercito, la questione della moneta. Vi è il contenitore delle materie concorrenti, in cui lo Stato deve dettare la disciplina generale e le regioni quella di dettaglio. In questo contenitore sono contenute una serie di materie, anche qui estremamente rilevanti. Andiamo dalle grandi opere in materie di energia, in materie di trasporti, di telecomunicazioni, agli ordinamenti professionali, all'agricoltura o alla pesca. Vi sono poi una clausola residuale, ovvero si dice, a Costituzione vigente, tutte le materie non disciplinate, non indicate, nei primi due contenitori, sono di esclusiva competenza delle regioni. Questa situazione, in particolare la previsione delle materie concorrenti, ha determinato nel corso di questi 15 anni 1745 conflitti di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale, quindi una conflittualità endemica tra i poteri dello Stato, in particolare tra lo Stato e le regioni. Questa conflittualità endemica ha determinato quindi anche una situazione di non chiarezza e di non certezza nell'ambito del nostro ordinamento. Il legislatore della riforma che cosa fa, che cosa avrebbe intenzione di fare? Sostanzialmente non tanto centralizzare le funzioni, quanto razionalizzarle, ovvero si riattribuiscono alla competenza dello Stato materie che già la Corte Costituzionale, nella sua giurisprudenza di questi ultimi 15 anni, aveva già attribuito allo Stato attraverso una serie di strumenti, tra i quali il più noto è quello della chiamata in sussidiarietà. Chiaramente questa riattribuzione è avvenuta sulla base di determinate condizioni e limiti, l'obbligo di trovare delle intese con la regione o con la conferenza Stato-Regioni, o attraverso altri escamotage volti sostanzialmente a contemperare e a bilanciare il principio della leale collaborazione tra questi, a bilanciare i rapporti tra lo Stato e le regioni. La riforma nel contempo però non spoglia le regioni di tutti i suoi poteri, ma lascia alle regioni tutta una serie di competenze estremamente rilevanti. Ma tiene conto di un elemento che si è già realizzato nel corso di questi 15 anni. Vi sono scelte, come ad esempio quelle che ho citato, relativamente alle opere strategiche in materia di energia, in materia di trasporti o di telecomunicazioni, in cui non si decide più a livello regionale ma neanche a livello nazionale. Le scelte vengono prese a livello sovranazionale tra i grandi player, la Russia, l'Unione Europea, gli Stati Uniti o l'Inghilterra stessa, dove il gasdotto lo decidono tra la Russia e l'Europa. Non è possibile che la Puglia o la Lombardia mettano il veto rispetto a un'opera di interesse nazionale. E da qui si giustifica anche l'inserzione nell'ambito del nuovo articolo 117 di quella che alcuni costituzionalisti hanno chiamato la cosiddetta clausola vampiro, la clausola di supremazia. È una clausola che è prevista anche in altri ordinamenti europei. Nel nostro ordinamento viene ad essere previsto certa la possibilità da parte del Parlamento nazionale su impulso del governo di disciplinare, di dettar leggi in materia di esclusiva competenza delle regioni, ma entro determinati limiti, quando è in gioco l'unità giuridica ed economica dello Stato e quando vi è un interesse nazionale, in modo conforme all'interesse nazionale. Clausola che era già prevista dalla nostra Costituzione prima del 2001 e che è stata cancellata con quella riforma.